Francesco? Piontek dalla sinistra si accentra, prova il tiro, gol, 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 convergenza in centro, entro a tiro in diagonale, Pio Pio, Pio Pio, Pio Pio, ed è due, ed è due, ed è due, ed è due, ed è gol, doppietta di Piontek, doppietta di Piontek, doppietta, 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 Pio 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 Pio, ed è gol 2 a 0, è finita, è finita, è finita, Pio Pio, il pistolero, il pistolero, doppietta del pistolera, il pistolero, io ce l'ho la pistola e voi ce l'avete, io ho il pistolero, tu ce l'hai il pistolero, io ce l'ho, e allora, e andiamo, siamo in semifinale, e adesso aspettiamo Lazio, Lazio,